salve a tutti in questo video parleremo di un microfono particolare il moman cp1 che è un microfono che può essere collegato sia il cellulare che al pc e anche una mollettina per essere attaccato per esempio qua alla camicia ok allora guardiamo di nuovo la scatola e in abito giù perché è formato principalmente da due oggetti interessanti allora questo che è la base che è collegata via usb c al cellulare volendo e il cellulare li abilitate lottigi e l'ora fa il pairing con il microfono che è questo qui quindi vedete così capite la grandezza lo vicino alle mie cuffie e capite la grandezza oppure al apro che alzoni cellulare ok vi faccio vedere quanto largo è quanto è il microfono più o meno la larghezza di un cellulare ok tanto per farvi capire com'è allora questo microfono può essere messo a fino a 100 metri di distanza dalla base e comunque il prende cioè il prende riesce a fare il pairing con la base e riesce a far sentire l'audio allora ho detto pairing ma non usa bluetooth si collega con la base non ho capito col wifi con cosa ma comunque non ha bisogno di brutto attivo sul pc o sul cellulare è questa una cosa buona in più a parte che il microfono qui adesso vero vicino sempre di più c'è la sua presetta usb c per e per ricaricarlo eccolo vedete la vicino ancora eccola che si vede meglio c'è la stessa presa anche sulla base perché perché la base teoricamente non ha bisogno di essere ricaricata ma se collegata al cellulare e attaccate la presa usb c ricaricate il cellulare quindi potete caricare il cellulare mentre state facendo il video adesso un test che voglio fare è alzarmi perché sono in una stanza che è ricavata da un garage quindi in questa stanza ci stavano due auto una davanti all'altra io sono da un lato della stanza adesso col microfono in mano mi sposto e vado della parte opposta della stanza parlando ok adesso prendo il microfono mi sposto sto parlando sto parlando sto parlando adesso ho raggiunto la parte opposta della stanza tocco il muro torno indietro torno indietro torno indietro torno indietro adesso comincerete a vedermi nella ripresa e mi rimetto lì per sentirmi un po meglio ok questo per farvi capire che l'audio che sto utilizzando per questo video è proprio questo di questo microfono qui non è del mio rode nel più usb perché sennò quando mi spostavo a distanza avreste sentito l'audio sempre più basso comunque buono perché rode prende tutto però l'avreste sentito a distanza invece così no allora sul pc io un linux è ancora meglio perché se avete i pc nuovi che hanno la presa usb c attaccate il la base usb c e lo vede subito e mi raccomando quando il microfono vede la base c'è la lucetta verde fissa altrimenti lampeggia se non vede la base ok quindi sul cellulare quando non avete abilitato l'ottici la lucetta lampeggia ok se non avete la presa usb c qui ci forniscono anche la presa la riduzione in usb normale quindi metto usb normale riduzione sul pc attacco usb c sulla riduzione usb c ho perfetto il pc la vede adesso vi faccio vedere due foto tanto per farvi vedere qualcosa questo è il microfono ok ed è fatto così ha la sua fietta in gomma piuma per la il vento soprattutto fuori c'è la sua custodia che questa qui ok la custodia e c'è anche il cavo per la ricarica volendo ok questa è la base che non vi ho fatto vedere quella reale perché è collegata al portatile adesso ok e qui c'è una bella foto che si capisce bene come funziona che è questa qui vedete che a fianco al cellulare c'è la base e poi c'è un cavo il cavo serve per caricare il cellulare ancora ok allora penso di avervi detto tutto il microfono su amazon oggi l'ho trovata 39 99 ok e con questo video spero di avervi fatto capire la qualità dell'audio di questo microfonino ok l'ultimissima cosa che posso farvi vedere è che sul pc lo vede come micofono con comp x audio mono ok quindi se l'ha visto linux lo vedrà sicuramente anche mac non lo so windows perché non lo non è vero questa è una balla l'ho provato in velocità lavoro e l'ha visto subito anche a lavoro su windows 10 quindi lo vedono tutti i sistemi operativi e per 39 99 per l'audio di un parlato è abbastanza buono se devo farlo in esterna ok per questo video per me è tutto